Guido, è chiusa la cucina? Non c'è più nessuno, niente, perché? È arrivato un signore da Roma, dal ministero, vorrebbe mangiare. È chiusa la cucina. Peccato, ti avrebbe dato una bella mancia. È aperta la cucina. Si accompe. Parego. Grazie. Dottore, lei non mangia proprio niente? No, no. I nani sono sette. Buonasera. Piccoli. So che la cucina è chiusa, magari è una cosa fredda. Quello che trovate... Guardi, qua è tutto buonissimo, sciega lei. Qualcosa di leggero. Bene, allora abbiamo carne, una bella bistecca pesante, oppure agnello, rognone, fegato fritto, intriso e impanato, altrimenti pesce. Pesce, pesce. Bene. Abbiamo un rombo grasso grasso, oppure baccalà imporchiettato, intriso, unto al gran marnier, altrimenti un salmone magro. Un salmone, molto gentile. Contorno? C'è anche il contorno. Eh, certamente. Abbiamo funghi fritti, 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 oppure patate imburrate al burro di Nensì con crema squamusa o... Non ci sarebbe un'insalatina leggera, leggera, se no niente. Un'insalatina leggera? Mi dispiace perché i funghi fritti, fritti, fritti erano veramente eccezionali. Allora abbiamo detto, insalata leggera, salmone magro e un bicchiere di vino bianco. Perfetto. Più presto che puoi, per favore. Faccio il possibile. Prego.